Salve a tutti, sono Mattia per l'amiche più intime Matti Oski e sono qui quest'oggi per parlarvi del trailer di Victor Frankenstein, un film che ha inaspettatamente suscitato la mia curiosità. Probabilmente perché i due attori protagonisti sono due interpreti a cui sono affezionato, sebbene in maniera diversa. In primis troviamo James McAvoy a interpretare Victor Frankenstein, un James McAvoy che è stato un Charles Xavier giovane fantastico nei recenti film degli X-Men, che è quindi un attore che apprezzo molto e in secundi si troviamo con un totalmente inaspettato, un what the fuck esco Daniel Radcliffe nel ruolo di Igor, una scelta che può lasciare abbastanza perplessi, però dobbiamo pensare che questo ovviamente è una rilettura in chiave moderna e tra poco ci arriveremo e che quindi Igor non è il gobbo deforme che abbiamo tutti nella nostra mente, ma bensì un giovine all'apparenza abbastanza normale e forse addirittura il più sano mentalmente tra i due. Ad ogni modo tutti noi abbiamo visto il buon Radcliffe crescere davanti ai nostri occhi mentre interpretava la saga di Harry Potter e quindi è una figura a cui sono affezionato. Inizialmente non è che a recitare fosse tutta sta bravura, però è molto migliorato, bisogna riconoscerlo. Ha fatto anche teatro come un po' tutti gli attori inglesi e già dal trailer, dalle prime immagini che si vedono a me in questa rilettura ha convinto, ha convinto, sono molto curioso di vederlo all'opera. C'è da dire che ormai abbiamo visto la storia di Frankenstein raccontata centomila volte in centomila salse diverse, quindi qual è l'apporto innovativo di questo Victor Frankenstein? Beh, a giudicare dal trailer sembrano relativamente bandite, velleità horror di qualsiasi tipo, certo c'è qualche mostro che salta, ci sarà qualche jumpscare, penso, ma le sensazioni che mi ha dato il trailer è quello di un film avventuroso e anche abbastanza divertente. A dire il vero mi ha ricordato molto lo Sherlock Holmes di Guy Ricci, sia per quanto riguarda la dinamica tra Victor Frankenstein e Igor, per l'appunto che ricorda molto quella tra Sherlock Holmes e Watson, sia in generale per le atmosfere, per le ambientazioni, per l'atmosfera da cazzatona molto divertente. Secondo me è questo l'approccio con cui dovremmo avvicinarci alla visione del film. Non aspettiamoci una rappresentazione, una riproposizione fedele del romanzo di Mary Shelley, ma andiamo lì al cinema con la consapevolezza di vedere un blockbuster che vuole essere semplicemente un film di intrattenimento con qualche vaga strizzatina, magari per le ragazzine. O per me quando ero bambino che mi spaventavo a vedere il sacerdote di Indiana Jones e il Tempio Maledetto che strappava un cuore fintissimo dal petto altrettanto fintissimo dell'uomo messo lì come sacrificio alla Dea Cali. Ben ricordi! E possiamo rilevare l'atmosfera abbastanza scanzonata del film in una citazione che personalmente ha riscaldato il mio cuoricino. C'è una citazione a Frankenstein Junior che è fantastica, quindi se non avete visto il trailer guardatevelo. Già con questo insomma si capisce che il film è stato studiato per divertire e anche per omaggiare un po' la tradizione. Il mostro, la creatura per quel poco che si vede, sembra abbastanza terrificante, anche se non penso avrà la solita chiave di lettura, ovvero quella secondo cui poi in fondo il mostro è più umano degli umani stessi e quindi le vere creature malvagie sono gli esseri umani. Se vogliamo vederla in questo senso, Frankenstein, o meglio la creatura di Frankenstein, è sempre stata rappresentata come un bambinone che si trova a che fare con questo mondo che lo rigetta e quindi diventa crudele a causa degli influssi negativi della società, se vogliamo dare un po' questa chiave, questa chiave di lettura. Qui invece penso che sarà un pretesto per creare delle scene action. Poi magari rimarremo stupiti, non è detto. Tra l'altro credo che non ci sarà solo lui in quanto mostro, ma anche forse una sorta di licantropo, boh non si capisce bene, però secondo me possiamo aspettarci altri mostri. Non mi sembra che questo film faccia parte comunque del revival dei mostri classici che era cominciato con il Dracula di Luke Evans. La Universal, se non sbaglio, voleva fare un po' tutti i remake di questi mostri celebri, quindi Dracula, la mummia, l'uomo lupo, per poi farli confluire in un crossover. Ma questo film è prodotto dalla 20th Century Fox, quindi credo non abbia nulla a che fare con quel progetto che tra l'altro non si sa se è ancora in ballo oppure se è stato abbandonato. Comunque voglio fidarmi, anche perché la sceneggiatura di Max Landis, che oltre ad essere il figlio del grande John Landis, ha anche sceneggiato Chronicle, un film supereroistico molto diverso dal solito filmato in found footage che però riesce a donare a questa tecnica ormai stra abusata un senso, quindi vi consiglio di recuperarlo se ancora non lo conoscete. Ma il piatto forte, l'elemento che ho tenuto per ultimo, perché è quello che mi spinge a correre già adesso al cinema, anche se non so quando uscirà il film, è la presenza di Andrew Scott, il Moriarty della serie tv di Sherlock. Io adoro quell'uomo, adoro quell'attore e peraltro in questo film interpreterà un detective, quindi sarà anche curioso vederlo in questi panni, un detective che comunque sembra abbastanza cattivo, nel senso che si riproverà ad assumere il ruolo del villain, ma credo sarà quel tipico personaggio un po' negativo, un po' positivo, insomma sono curiosissimo di vederlo, assolutamente. Ma io ho finito di parlare, adesso tocca a voi, cosa ne pensate del trailer di Victor Frankenstein? Ha suscitato il vostro interesse? Quali sono le cose che vi convincono e quali quelle che invece vi convincono meno? Così ad una prima impressione ovviamente il film dovrà essere visto per essere valutato appieno, però ecco qui mi interessano le vostre prime impressioni, quindi scatenatevi nei commenti, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e condividetelo sui social network. Non mi rimane altro da fare che salutarvi con il mio classico spadoonj!